Abbiamo quindi veramente un piacere enorme di avere qui con noi Gianni Mura. Buonasera, scusate a ritardo ma mia stazione in piazza era da tre quarti d'ora, poi mi hanno detto che Vinicio ha un fuso orario diverso da quello di Calitri e forse anche da quello di Greenwich. Lo ringrazio molto perché mi dà l'opportunità di vedere un paese e le sue campagne che conoscevo solo attraverso le canzoni della punta. Anche i lustri quotidiani sportivi hanno fatto titoli come la IGN, solo quarta e mondiali, un paio le ho scritte ma non le avete lette perché sono uscite sui primari semiflamestini. E Owens era obbligatorio portarlo a Borrino perché l'anno prima, in meno di due ore, aveva fatto quattro record del mondo. E si può riempire per la finale, che è noto merito. C'era uno odiato, forse anche da tedesco, si chiamava Eman Kornagiusi. La sirena e il richiamo ha tirato tutto il paese, ci si è buttato. E le finestre abbandonate come occhi neri sono restate. Gianni Mura Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti.